musica 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 signori buonasera a tutti bentornati qui sul mio canale 1936 solo io video al volo veloce ragazzi siamo nei preparativi questa sera ore 21 il programma che parla della serie B a 360 gradi sulla radio ci trovate su www.radioplaytime.it trovate qui sotto in descrizione ci potete quindi ascoltare live on demand sul sito della radio oppure ci potrete vedere sul canale youtube di Radio Playtime, vi lascio sempre qui sotto in descrizione il video oppure ci potrete vedere sulla piattaforma Twitch, sempre sul canale della radio e vi lascio qui sotto in descrizione il link argomenti della serata ragazzi commenteremo le partite della Coppa Italia che si sono disputate oggi e che sono andate in pratica a scegliere a decretare le sfidanti del prossimo turno per quanto riguarda la Coppa Italia delle squadre della serie B parleremo dell'argomento stadio ovvero questa riapertura alle mille persone e poi credo che si riaprerà dopo il 7 di ottobre verranno ampliati in base alla percentuale della capienza dello stadio andremo a parlare delle squadre della serie B del mercato andremo a fare un'analisi di tutte e 20 le squadre della serie B faremo un pronostico sulla prossima giornata che incomincerà fra due giorni avremo una sorpresa bella sul canale quindi rimanete sintonizzati su Radio Playtime ascoltate tutto il programma ci sarà bella musica quindi due ore da passare in compagnia mia di Stene e di 1909 sono Fisa quindi ragazzi ci stiamo preparando a fra poco fra un'ora Radio Playtime B-Planet vi aspetto Grazie a tutti Grazie a tutti